Domenica tragica per una famiglia pakistana. Il loro bambino, di soli 4 anni, ha perso la vita scivolando nelle acque del fiume Isarco all'altezza di Ponte Loreto. La famiglia si trovava nei pressi del Parco delle Religioni quando, probabilmente per il troppo caldo, il bambino ha pensato di rinfrescarsi immergendosi leggermente nell'Isarco. In un attimo la corrente ha avuto il sopravvento, trascinandolo via. L'allarme è scattato immediatamente, al lavoro sono partiti i vigili del fuoco, sommozzatori, l'aiuto al Pindolomites con l'elicottero e le forze dell'ordine. Una ricerca disperata che si è conclusa soltanto nei pressi di Badena, poco prima del Safety Park. Riusciti a recuperarlo, i soccorritori hanno iniziato le manovre di rianimazione. Caricato sull'elicottero dell'aiuto al PIN, il bambino ha compiuto un volo disperato all'ospedale di Bolzano, dove i medici hanno continuato con le operazioni di rianimazione, ma senza esito. Il bambino è deceduto.